Abbiamo deciso insieme alla Dinambiente, insieme a questi signori che riciclano la plastica, il ferro eccetera, insieme al parco che sapete ha lo scopo fondamentalmente di difendere la natura, di far capire a tutti quanti l'importanza della natura e di vivere in armonia con essa e quindi di non sporcare, di andare a fare le passeggiate nel bosco e via dicendo. Insieme abbiamo deciso di intraprendere questo programma di lavoro per cercare di far capire a tutti quanti, partendo da voi giovani, perché bisogna fare questo famoso riciclaggio, perché bisogna stare lì a prendere la cartina e della merenda e metterla da una parte, i tappi dall'altra, diciamo butto tutto, arrivederci e grazie. Questo è quello che didatticamente viene definito l'aggancio, cioè è l'inizio di un programma didattico che prevede una fase di forte attrazione dei ragazzi all'interno di questo processo, di questo discorso, appunto in questo caso del riciclaggio. Praticamente è un modo forte, un po' appunto giocato ma scientificamente corretto di trasmettere dei contenuti. Il fatto di separare non ce lo siamo inventati noi, in realtà è la vita che separa e quello che io vi voglio raccontare è esattamente questo. Perché si deve separare? Perché è la vita che funziona così, un bosco che funziona così, gli animali in natura, gli elefanti in Africa, tutta la vita sul mondo funziona così, perché la materia che compone il nostro corpo, la materia che compone la vita viene usata e riusata in continuazione. Quando noi mangiamo stiamo usando la materia di qualcuno e quando noi andiamo al bagno stiamo dando un po' della materia che non ci serve a qualche di un altro. In questo caso quello che si voleva far capire appunto è che noi siamo materiale riciclabile, siamo riciclati e la vita funziona attraverso questo processo infinito di materiale che gira tra gli esseri attraverso le catene alimentari, alimentato dal sole che ne fornisce l'energia e il motore e che noi siamo parte di tutto questo. Nel momento in cui mangiamo, nel momento in cui utilizziamo la nostra macchina stiamo dentro questo grande processo della vita che è il riciclaggio. La terra è quella cosa che non possiamo gettare via, ma la terra cosa? Il suolo o la terra il nostro pianeta? Il nostro pianeta è il luogo dove noi viviamo, la terra che è fatta di quello che avete detto voi, di cibo, di acqua, di sole, che non si può buttare, non possiamo proprio buttarla, ma stiamo rischiando di farla finire esattamente come qui dentro, in un mucchio di... Immondizia, carta. Tutto il progetto parte da questo inizio, diciamo, e ha una serie di strategie interne molto interessanti. Innanzitutto motivare i ragazzi a iniziare lo studio di queste cose, con gli insegnanti in classe ragioneranno appunto da dove viene il vetro e cominceranno a ripercorrere con attenzione il percorso di questo materiale, dei materiali e di come l'uomo impatta sul pianeta per raccoglierli, per lavorarli, per trasportarli e quindi per farli giungere a noi, e poi noi come li dobbiamo usare in maniera un po' più attenta. Bottiglia di vetro con tappo di ferro. Allora, domanda numero uno. Sapete dire di quali materiali sono fatte? Che materiale è fatto? Si innesca un altro meccanismo successivamente, man mano che cresce questa consapevolezza. Il fatto di dire, andiamo a vedere che cosa succede poi a queste cose. Si andrà a visitare delle aziende che operano nel campo del riciclaggio e sono immagini, devo dire, veramente di impatto, anche a visitare la discarica di Latina. Lì ci si rende conto dove converge questa massa enorme di cose, per cui queste balle enormi di plastica, questi macchinari enormi, mostruosi, che sbriciolano la plastica in pallina e poi la ricompattano in pellet. Questi enormi cumuli di immondizia che noi produciamo e che viene differenziata nell'azienda urbana della nettezza. Croccantelle, benissimo. Abbiamo detto che qui dentro ci sono i mattoni della vita, perché sono quelli che noi mangiamo e ci servono per costruirci, no? Questa macchina, signore e signori, separerà le particelle che costituiscono il cibo di questo pacchetto. Mettiamo qui dentro. Voilà, attrazione. Qui dentro. Che è successo? Oddio. Separatore di particelle. Si è separata la nostra merendina in qualche cosa. Vedi un po'. Chiederemo agli insegnanti di raccogliere l'immondizia che i ragazzi producono in classe. Si riversa tutto questo in classe al centro dell'aula e si dice voi in questi 15 giorni avrete prodotto tutto questo. Vi sembra poco? Vi sembra tanto? E cominciate a ragionare su che cosa c'è dentro e che tipo di uso poteva esserne fatto. A quel punto si innesca ancora una sensibilità in più che è quella di quello che si impatta anche in una piccola classe e come andare verso la raccorta differenziata. Lo stomaco è un separatore di particelle. Io mangio la croccantella, l'acqua, l'aria si divide e a quel punto se serve dei mattoni per far crescere i capelli il sangue che è il trasportatore di mattoni porta questi mattoni qui sui capelli e mi crescono i capelli. I mattoni che non servono al nostro organismo vanno al bagno, vanno eliminati, vanno nel terreno. La mucca dove la fa la cacca? Nel terreno. Quei mattoni vengono assorbiti di nuovo dal terreno vengono assorbiti dalle radici e rientrano in circolo. Ci siamo? Come vedete in qualche modo la natura ha di nuovo separato e riciclato. Ci tiriamo sulle maniche e cominciamo a lavorare tutti e aiutiamo a portare più cose possibili verso le discariche differenziate vincerete anche un premio. Alla fine dell'anno questi signori a cui noi stiamo portando del materiale buono ci pagheranno il pullman per andare a vedere il Parco Nazionale del Cerceo. Voi inizierete un percorso di lavoro su questa cosa e per chi sarà più bravo, spero tutti, vincerà un premio. Si innesca questo meccanismo che già ha iniziato l'anno scorso con le classi prime e ha questo effetto di macchia d'olio, di risonanza. I giovani sono sempre più coinvolgenti diciamo e quindi si espande dalla scuola, dalla classe verso le altre classi e si espande verso le famiglie. I ragazzi vanno a scuola, dalla scuola vanno a casa e cominciano a chiedere ai genitori di dargli i tappi, di separare il vetro, eccetera. Perché lo devono portare a scuola? Perché devono vincere questa gara e perché devono portare il più materiale possibile. In questo modo noi cerchiamo di trasferire gli effetti positivi di questo lavoro dalla scuola come luogo di elaborazione sociale e civile verso il resto del mondo, quindi le famiglie, la società qui intorno. Questo secondo noi è un modo che sta funzionando tra l'altro. L'anno scorso gli insegnanti mi hanno chiamato all'inizio di quest'anno e ho detto, è incredibile, non era mai successo. I ragazzi hanno raccolto plastica, vetro e carta durante le vacanze estive e sono arrivati qui con dei sacchi enormi. Se noi usiamo le bottiglie di vetro, anziché riciclarle, le buttiamo e vanno a finire in discarica non separate, quelle rimangono lì e noi abbiamo bisogno di altro vetro per fare altre bottiglie. Allora si va di nuovo a Fossanova, a Priverno, si tagliano ancora di più gli alberi per scavare la sabbia e per fare altre bottiglie. In questi alberi grossi, con i buchi, vivono questi piccoli animaletti. Tolto il bosco, loro non hanno il luogo dove vivere perché non ci sono più tronchi, non hanno più neanche gli insetti dove vivere perché vivevano nel bosco e muoiono. Questi animali stanno scomparendo. Questo per noi è fare veramente educazione, che vuol dire modificare i comportamenti, fare educazione ambientale, modificare i comportamenti in termini positivi a favore dell'ambiente e vuol dire produrre effetti duraturi, produrre una coscienza civile, produrre un'educazione vera che non finisce nel tempo perché è radicata sulla esperienza diretta, sulle conoscenze e anche sulle emozioni perché questi ragazzi venendo al parco avranno un forte impatto con il bosco, con l'ambiente che li circonda che magari non hanno mai visto con questi occhi, con gli occhi di chi vede i materiali muoversi, di chi capisce che quel grande albero è fatto di mattoni che poi torneranno al suolo attraverso le foglie e che magari saranno poi una foglia di insalata nel loro piatto. Legato alle emozioni che hanno vissuto, alle conoscenze, mettendo assieme tutto questo e con l'aiuto ovviamente di tutti e con la scuola e il parco che lavorano assieme come agenzie di formazione insieme appunto anche alle ditte che lavorano in questo senso e che si sono gettate in questo progetto con grande entusiasmo perché hanno visto che dà più senso pure al loro lavoro oltre che dare introidi maggiori, pure questo è vero anche se in parte ma se moltipliciamo questo veramente ci rendiamo conto che non è solo un comportamento giusto, un comportamento corretto in armonia con il pianeta ma anche produrre un'economia vera e diversa, sostenibile. Grazie. 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 Grazie.